all'instabilità. Dovrebbe essere coinvolto tutto il Parlamento, secondo il Movimento 5 Stelle, in un'ampia riflessione sull'affidabilità della Turchia, soprattutto in un'ottica di gestione dei flussi migratori e sulle ultime scelte imposte all'Italia dall'Unione Europea. Interrompere ogni scambio economico e di armi con i paesi che alimentano il terrorismo, come ad esempio l'Arabia Saudita e il Qatar. Poi aprire una vera collaborazione con i paesi come la Russia e quelli del Nord Africa di intelligence per combattere il nemico comune, che è appunto l'ISIS. E terza cosa ritiro immediato le truppe dall'Afghanistan utilizzando quei soldi per l'intelligence interna al nostro paese, perché la guerra oggi è in Italia, qui da noi in Europa e non più a 6.000 chilometri.